Michael Bolton ha annullato diversi concerti dopo un intervento per un tumore al cervello che gli era stato diagnosticato poco prima di Natale. L'ho annunciato lo stesso settantenne cantante pop americano molto popolare negli anni 80 e 90, rassicurando i fan che l'operazione ha avuto successo. Il cantante ha postato su Instagram la notizia comunicando ai fan di aver saputo del tumore alla fine dell'anno. Poco prima delle vacanze si è scoperto che aveva un tumore al cervello che richiedeva un intervento chirurgico immediato, ha scritto. Grazie al mio incredibile team medico l'intervento è stato un successo. Ora mi sto riprendendo a casa e sono circondato dall'enorme amore e sostegno della mia famiglia. Bolton ha spiegato che nei prossimi mesi dovrà concentrarsi sulla ripresa e pertanto dovrà saltare diversi impegni. Da inizio febbraio avrebbe dovuto iniziare un tour in diverse città degli Stati Uniti, della Svizzera e del Regno Unito.